Da venerdì 28 a domenica 30 agosto si rinnova un appuntamento che è quello con la festa di Montecroce all'Effe. Cosa ci sarà quest'anno? Dunque la festa si articola su tre serate ufficiali e una ufficiosa. I festeggiamenti iniziano il giovedì 27 con la tradizionale cena di mezza estate, la cena a cui possono partecipare tutti quelli che vogliono, tutti coloro che sono qui a trascorrere le vacanze in Montecroce ma anche chi vuole venire da fuori, a condizione che ognuno porti il suo, cioè ci porti da mangiare e poi da condividere eventualmente insieme con chi è in quel momento presente alla cena. La festa ufficiale inizia invece venerdì 28 con il concerto alle ore 21 degli Alchimia Sonora e prosegue poi per sabato 29 con il grande spettacolo periodo tecnico alle ore 21 e 30 e a seguire il concerto dei Malvasia che è una cover band. Domenica 30 ci saranno invece i festeggiamenti religiosi con la Santa Messa solenne alle ore 10 e 30 e nel pomeriggio alle ore 16 i Vespri e la processione con la Reliquia dell'Ino della Santa Croce. Tutte le sere da venerdì a sabato ci sarà la possibilità del servizio ristoro con griglieria, rosticceria e pizzeria mentre la domenica alle ore 12 è previsto il pranzo delle famiglie su prenotazione. Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di condivisione e di comunità. Vi aspettiamo quindi per la nostra festa il 28, 29 e 30 agosto in Monte Croce alle F.